Allora, continuiamo con i giornali, diamo uno sguardo alle pagine interne della città, dunque dossier sul Salerno in primo piano e dieci falsi primati promessi da De Luca. Lo studio condotto da Laboratorio 20 sulle future eccellenze in città, dagli asili nido all'impiantistica sportiva, passando per la grande architettura. Tutti dunque progetti non portati a termine da De Luca, intanto c'è la fiducia, il PD tira dritto, inascoltata la D'Amelio. C'è l'intervento del consigliere regionale Maria Ricchiuti, dice non è un modo per estrometterci ma solo per velocizzare. Personalmente quando non sarò d'accordo voterò secondo coscienza, così Maria Ricchiuti. Intanto la crisi del sindacato, addio agli iscritti, la CGL senza più appeal, Voza si dimette da segretario, lasciato solo da SEL. Nelle pagine interne c'è spazio anche per l'informazione nazionale ma torniamo alla cronaca di Salerno. Botta ai disabili, arrestate sette persone, orrore sui minibus, sono autisti, accompagnatori di Villa dei Fiori, addetti al trasporto degli ammalati dalle abitazioni al centro di cura. La notizia è davvero scioccante, ad incastrare le sette persone, ecco qua c'è un'immagine, i video realizzati dai carabinieri, un frame dove si vede appunto un accompagnatore colpire un disabile. Il padre di un ragazzo affetto da autismo ha presentato una denuncia ai carabinieri sui mezzi piazzati, microfoni e telecamere. Beh, fa davvero male leggere anche di queste notizie. Intanto per quanto riguarda il territorio cilentano, nella pagina di Agropoli Capaccio c'è in primo piano la notizia che riguarda il sindaco Alfieri, incentivi illegittimi, Alfieri deve dimettersi, Unione dei Comuni dell'Alto Cilento, manifesto di accuse della minoranza, il presidente, l'ex Castellano e il segretario ammoniti anche dai revisori. Dunque i consiglieri dell'Unione dei Comuni e Alto Cilento chiedono le dimissioni del presidente Franco Alfieri. Intanto case cantoniere, serbatoie e gallerie, 11 beni demaniali al comune di Atena. Valva effetto in Germania, eletto in Germania, scusate, presidente del club Forza Silvio. Stroncato un giro di droga nel Cilento, parlavamo appunto dell'operazione portata a termine ieri dai carabinieri, 15 arresti per spaccio di droga, eroina e marijuana, il rifornimento avveniva a Scampia. L'articolo del collega Vincenzo Rubano a Buccino, lotta alla droga, convegno al liceo e il San Nazaro di Oliveto Citra ospita il mercatino di Natale. Chiudiamo con Agropoli Capaccio, il giallo di Equitalia, migliaia di cartelle tornano al comune, esondazione del sele, fondi in arrivo e poi nella casa del Bosso il recupero per i disabili. Uno sguardo anche alle pagine dedicate allo sport che ci arrivano, intanto ci sono tanti appuntamenti anche con la solidarietà a Salerno, parlavamo appunto del concerto organizzato dalla procura che si terrà quest'oggi. Ma diamo uno sguardo allo sport, Salernità nel colpo manca da sei anni il lungo digiuno, poi Fava, la riete del Braia, basta paura, ora osate. Andiamo avanti, città di Nocera Scafatese, dentro fuori al San Francesco, il ritorno dei quarti di Coppa Italia, Fonsino un traguardo importante per conquistare la serie di Lacavese, due rinforzi a metà campo per Longo, Presi, Proia e Ricciardi. Alessio, tu hai anche una passione sportiva, segui da vicino la Gelbison, la nostra Gelbison, ma che cosa sta accadendo? Usciamo un po' fuori dal tema, che cosa sta accadendo? Qualcosa che non doveva accadere quest'anno. Tu segui, insomma, tutte le domeniche sei al campo, vivi da protagonista, insomma, il clima che si respira sugli spalti dello Stadio Morra. Sì, è un momento sicuramente molto molto difficile per la Gelbison, per la squadra e soprattutto per la realtà vallese. Bisogna prenderne atto di quello che sta succedendo, perché nello sport, nel calcio soprattutto, ci sono pochi momenti felici e tanti momenti in cui si soffre. L'importante è che all'interno della società, e ne parlavamo anche prima di iniziare, è capitato che ne parlavamo di questo argomento, bisogna che la società chiarisca le sue idee, che mette in ordine i progetti. C'è un po' di confusione, c'è stato un esordio un po' così per questo dubbio sull'iscrizione, sembra ancora che questa falsa partenza. È una banale giustificazione arrivata a questo punto, sono passati sei mesi, cinque, sei mesi, bisogna guardare avanti e non si può rimpiangere sempre il passato. Dobbiamo essere ottimisti però, speriamo bene anche in questo momento, c'è il mercato aperto, speriamo che ci siano nuovi arrivi, la pausa di Natale potrà essere un momento di riflessione per i giocatori e per la squadra. È l'unica cosa in cui possiamo confidare, perché io conosco quasi ogni giocatore che quest'anno gioca all'interno della squadra, sono bravissime persone, ma insieme stanno dimostrando che non hanno forse la forza d'anima e l'assetto psicologico di giocare. Si, occorre una motivazione. Quindi qualche nuovo arrivo da parte del mercato di gennaio sicuramente può dare linfa nuova alla squadra e magari arrivare alla lotta ai punti salvezza che sono circa 40. Federica, insomma, non la coinvolgiamo in questo discorso calcistico, allora diamo uno sguardo velocemente alla prima della città, poi torniamo sul Rotaract. Schiaffi e insulti ai disabili, minacce sciocche ai pazienti, siediti e non urlare, più o ti spacco la faccia, questa è una delle intercettazioni. Orrore dunque sui pulmini per i malati, psichiatrici, sette arresti tra autisti e dipendenti della casa di cura Villa dei Fiori. Beh, andiamo avanti. Primo via libera dalla Camera, 17 milioni intanto ai superstiti di Sarno. Parliamo della frana, le famiglie sono ancora in attesa, le famiglie delle vittime sono ancora in attesa dei risarcimenti. Poi Droga Connection, Asse, Napoli, Cilento, Maxi Blitz dei Carabinieri, 15 ai domiciliari, le mani degli scissionisti sul litorale di Ascia, cocaina, eroina e ascice. Federica, invece, la coinvolgiamo in questa notizia. Tanti giovanissimi, tanti ragazzi coinvolti in questo blitz, poco più che ventenni, e i presunti spacciatori e gli assuntori, che effetto fa leggere di queste notizie? Tu sai di Vallo, insomma, ci sono stati degli importanti arresti anche a Vallo da giovane del territorio. Che effetto fa leggere di queste notizie? Ieri a Vallo siamo stati svegliati un po' tutti dagli elicotteri e dal clamore che ha provocato questa notizia. Fa sempre dispiacere, soprattutto sentire di coetanei, di ragazzi anche più piccoli di me, poco più che maggiorenni, insomma. L'amore per quanto mi riguarda fa tristezza, perché se dei ragazzi si rivolgono a queste realtà, le realtà criminali, vuol dire che qualcosa nella società non va. Non va nella società, non va, credo, in primis nelle loro famiglie, per cui si ritengono di passare alla parte, diciamo, oscura. Un perché ci sarà, e non è certo un perché, sicuramente non sarà certo un perché negativo, un perché positivo. Quindi dispiace moltissimo, spero che... Ma ci sono tante altre belle realtà a cui dedicarsi. C'è Rota Rasta che apre le porte, insomma. Utilizziamo il nostro tempo e dedichiamo la nostra vita a delle iniziative positive. Bisognerebbe più che creare questi, più che fare questi blitz, che poi alla fine io ritengo personalmente che facciano, ci sia tanto rumore per nulla, perché poi dal blitz alla condanna effettiva, passa sempre tantissimo tempo, insomma, lasciano il tempo che trovano queste, diciamo, queste retate, questi blitz. Più che questo, magari io... Andare alla base. Sì, andare alla base. Perché... Il perché, quindi la prevenzione. Si innescano questi meccanismi. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo intanto questa notizia anche nelle pagine interne. Per quanto riguarda la prima della città, Pazziccio partecipata, ecco tutti gli sprechi, Edde Luca sfida di Maio sulle clientele. Intanto Napoli apre alla fondazione, rilanciamo le luci d'artista. La politica, Tommaso Pellegrino è il nuovo presidente dell'Enteparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ieri il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato la proposta del governatore della regione Campania, del ministro dell'ambiente. Scusate, andiamo avanti. Le prime pagine del mattino, spazio al turismo con il sindaco Napoli che apre alla fondazione. serve un salto di strategia. Il sindaco dice, idea realizzarla, pronti a confrontarci nel merito. Poi, ok, investimenti privati, ora decisioni concrete. Prete, che è presidente della Camera di Commercio, dice il contenitore, non è così importante. Velocemente andiamo avanti. C'è la pagina dedicata anche alla notizia che riguarda il neopresidente dell'Enteparco. Eccolo qua, De Luca firma Pellegrino al vertice del parco, il sindaco di Sassano sulla poltrona presidenziale dell'Enteparco, Vallo di Diano e Alburni. Dopo il sì del governatore la svolta. Dopo un anno, ringrazio per la fiducia, ora subito al lavoro. E sarà il successore di Amilcare Troiano. Dunque c'è anche il retroscena, ha frenato il pressing dell'Udc, Chico Bellis puntava sulla nomina di Matera. Dunque Tommaso Pellegrino è di fatti il nuovo presidente dell'Enteparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Andiamo avanti. Le pagine del mattino dedicate al Cilento. In primo piano, gli arresti di ieri, droga da scampia, 15 arresti, l'operazione Maremonti è scattata all'alba con l'impiego di elicotteri unità cinofile. La rete dei pusher da Scea, a Castelnuovo Cilento, gestita dagli scissionisti. E poi le indagini, fiumi di cocaina e ruine ashish provenienti dall'Interland napoletano. Poi ci sono l'IDEMT-KIT, Baby Pusher, appunto, età media 20 anni. E c'è anche la donna, Dora Molfetta, veterana della dose. La strategia del terrore, a casa 23 bombe carte durante il blitz, sono stati sequestrati anche in genti quantitativi di sostanze stupefacenti e di bombe carte. Poi c'è la viabilità cilentana senza pacere, tutti i limiti di velocità. Vallo di Diano, botte e minacce alla convivente via da casa, mori criminali, appunto, nel Vallo di Diano. Appolla, luci sul monumento, oltraggio ai caduti. Torniamo con i nostri ospiti. Allora, vogliamo rinnovare l'appuntamento, Federica, con lo spettacolo di beneficenza, concerto di Natale, che avete il vostro prossimo appuntamento, che avete organizzato per il 21 dicembre. Sul palco, naturalmente, il Coro della Diocesi. Ricordiamo l'appuntamento. Sì, allora, vi invitiamo tutti al concerto di Natale, alle 21, il 21 dicembre, al Cineteatro La Provvidenza. Come l'anno scorso, vi invitammo a farci un regalo in meno, per farlo agli altri, a chi ha più bisogno di noi. Questo bel messaggio. rinnovo, rinnovo l'invito a tutti. L'anno scorso ci avete inondato di affetto, eravate numerosissimi. La comunità vallese e limitrofa si è dimostrata davvero partecipativa e affettuosissima nei nostri confronti, quindi puntiamo allo stesso risultato, a un risultato simile, per cui io vi invito. È un'ulteriore occasione per farci gli auguri di Natale, per farci conoscere e per fare appunto del bene a chi ne ha più bisogno di noi. Alessio, il tuo messaggio, il tuo invito. L'invito è... Svegliamo un po' il pubblico. L'invito più che avvenire assolutamente a questo concerto di Natale, ricordo, se mi passi la locandina, c'è il patrocinio dell'AERC. Ecco, ci sono anche dei ringraziamenti. L'AERC ci ha concesso il patrocinio. Ricordo che questo evento è stato fatto in comune accordo con i Rotari di Vallo della Lucania, con il distretto 2100. Abbiamo messo anche il logo della diocesi, perché il coro è della diocesi di Vallo della Lucania, in una grandissima e bella realtà del territorio vallese e cilentano, soprattutto. Per tutti ringraziamo il maestro Maurizio Iacovazzo. E oltre a invitarvi il 21 dicembre, come già ha fatto Federica, alle ore 21 presso il Cinetardio della Provvidenza, il costo del vietto è di soli 5 euro, andrà all'AERC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Vi invito dall'anno nuovo, perché ormai siamo agli sgoccioli di quest'anno, a partecipare con noi alle nostre iniziative e soprattutto a provare questa esperienza che è il Rotaract, perché è una bellissima esperienza. Non c'è assolutamente nulla di buio, anzi c'è molta luce, noi aiutiamo il territorio, aiutiamo noi stessi, perché arricchiamo ogni giorno le nostre amicizie, le nostre conoscenze, quindi non c'è assolutamente niente di brutto. E tu lo sei benissimo, perché ci hai seguito sin dalla nostra nascita. Diciamo sempre aiutateci ad aiutare, perché è importante, è importantissimo. È importante, sicura, posso approfittare della vostra presenza per ricordare un altro momento di beneficenza che si terrà già domani sera sul palco del Teatro della Providenza, mi riferisco alle ragazze di Sor Concettina Virtuoso, questa bella eredità che ci ha lasciato Sor Concettina, oggi sono dirette da Sor Luigina, e domani sera saliranno sul palco della Providenza per un altro momento di solidarietà. Quindi domani sera solidarietà con questo spettacolo di beneficenza organizzato da Sor Luigina con il gruppo La Providenza e il 21, altro importante momento con i ragazzi del Rotaract. Bene, noi ci fermiamo qui, ringraziamo Federica e Alessio e buon lavoro, buon Natale. Sicuramente ci saranno altre occasioni per vederci, per augurarci buone feste, intanto iniziamo già da oggi. Tutto per la rassegna stampo di erno, restate con noi tra qualche istante nuova edizione del TG7. Grazie, arrivederci. Questo programma è stato offerto da... Infante Calzature e Pelletterie a Vallo della Lucania in via Angelo Rubino e ad Agropoli in via Pio 1070 Infante Calzature